Bene, prima di iniziare la discussione sulla teoria della gravitazione universale facciamo un breve ripasso di dinamica. Oggi ci coppiamo di dinamica del punto materiale che è la parte della fiska, della meccanica, che studia il moto in relazione alle sue cause e la parola dynamis in greco significa forza. Il concetto principale della dinamica è il concetto di forza. Forza è tutto ciò che causa variazioni nello stato di moto. Cioè cambia lo stato. Il concetto di forza è molto antico già 24, 25 secoli fa ha risolto discutere del concetto di forza. Il nostro concetto di forza, quello moderno, viene da Newton 1687 ed è contenuto nella più grande, la più importante opere scientifica mai scritta di principi che legano la forza, dando le regole con cui funzionano le forze. ci sono tre leggi e tre principi della dinamica. Il primo principio, che in realtà non è di Newton, Newton lo dice, lo prende da Galileo, ma in realtà i primi puntati del principio di Nerfia, sono molto grandi minuti, e afferma che se la somma delle forze applicate a un oggetto è nulla, o se preferite la forza risultante è nulla, allora, e solo allora, la velocità di quell'oggetto è costante. Oppure se preferite l'accelerazione è nulla. Attenzione si tratta di vettori, quando scrivo la feccia sopra significa che è costante in intensità a direzione ai versi. Quindi l'unico moto possibile in assenza di forze o in emergenza di forze risultate dentro è il moto rettilineo uniforme. Qualunque altro tipo di moto è un moto causato da altre forze. Questo è molto anti-intuitivo, perché l'esperienza dice che se vuoi mantenere qualcosa che si muova devi continuare a cercare una forza. In realtà l'applichiamo per bilanciare l'attrice. Questo è il geniale di Galileo, quello che direi è che se io leggo una superficie, ciò che si muove, quella superficie è in assenza di ideali, che condivise un po' le persone. Come ne lo faccio? Come ne lo faccio, perché? Il secondo principio, o regola fondamentale della dinamica, dice cosa succede quando questo non è più vero. Se ho un oggetto a cui applicata una forza non bilanciata, il corpo accelera e c'è una relazione di proporzionalità diretta tra la forza e l'accelerazione e la costante di proporzionalità e la massa. Questo, normalmente, è quello che trovate come annunciato del secondo principio. L'importante però è chiaro che Newton non ha mai affermato questo. Questa è una versione semplificata per, tra virgolette, la scuola, anche le università vi diranno così. il secondo principio della dinamica, la sua formulazione corretta, è questa. La forza è la rapidità con cui cambia la quantità di moto. PIS è il prodotto massa per bene velocità. Quella è la vera, come lo avete solo detto, è quella che si usa abbastanza spesso, ma le due coincidono solo se sistemi che hanno, che hanno, scusate, massa costante. L'accelerazione si misura in metri al secondo quadrato, massa in chilogrammi e forza in newton. Un newton è un chilogrammo per un metro proprio secondo al quadrato. Quindi questa formula vale soltanto in caso della massa? Sì, è costante. Questo è il caso più generale. Per dirvi, all'interno della relatività questo è ancora valido, questo no. Terza legge, le forze non vengono mai da sole. Se io spingo il muro, automaticamente il muro mi spinge dall'altra parte. Se l'oggetto agisce su un altro, anche il secondo agisce sul primo. Quindi la forza con cui il corpo 2 agisce sul corpo 1 è in intensità uguale in direzione alla stessa direzione, ma verso l'opposto. C'è un meno davanti al vettore della forza con cui il corpo 1 agisce sul primo. non posso spingere senza essere spinta, non posso toccare senza essere spinta. Ok? Tutto chiaro? Se torniamo a considerare la seconda legge della dinamica, nel caso in cui un corpo sull'oggetto ha una forza costante, produce un'accelerazione costante. Dato che la massa è costante, insomma è proporzionale. il moto di un oggetto che si muove con un'accelerazione costante produce, è caratterizzato da tre regole principali. Mi ricordo che l'accelerazione è la variazione della velocità nell'intervallo di tempo, quanto rapidamente cambia la velocità. Se questa variazione ha un valore costante nel tempo, posso trovare da questa legge il legame tra velocità e tempo, basta che la risolvo rispetto a v. e ottengo che la velocità al tempo t vale per l'iniziale più l'accelerazione per t meno t iniziale. Qui ci pongo di lavorare in una dimensione. In base alla relazione di questa, per esempio, ha come grafico una retta, perché è un'equazione di primo grado. v e t appare in una prima potenza. Ed è una retta il cui coefficiente angolare è l'accelerazione. La legge oraria, cioè il legame tra posizione e tempo, in virtù di questa relazione, è data da posizione iniziale più velocità iniziale per tempo trascorso più metà dell'accelerazione per il quadrato del tempo trascorso. Usate la sovrapposizione dei due grafici. E infine, la relazione che lega velocità-tempo, posizione-tempo, velocità-posizione. Il quadrato della velocità è il quadrato della velocità iniziale più il doppio dell'accelerazione per lo spazio percorso del time. questo è per adesso il caso più semplice di moto che potete trattare. se la forza non è costante, l'accelerazione non è costante, e per riuscire a ricavare le analoghe di questa relazione ma non deve stare per la matematica che farete il prossimo anno, ciò che l'analisi del quindesimo anno, che è stato incontrato d'aiuto proprio per questo conoscimento. di solito ci chiamano quella fatta in matematica il più potente strumento di conoscenza mai costruito perché se non c'è quasi nessuna equazione che non rientri sull'accelerazione quindi se l'oggetto si muove non lungo una retta, ma nel piano dello spazio, questo anziché avere una sola coordinata ne avrò due o tre. per ognuna di quelle coordinate variano gli stessi principi. ok? facciamo anche una breve impulsione di moto circolare nel caso di moto nel piano con traiettoria che è tutta o in parte una circonferenza o quello che si chiama moto circolare di radio R, centro C, punto P che ruota il senso antiorario è preso normalmente come positivo la grandezza più importante del moto circolare è il periodo cioè il tempo impiegato a fare il giro completo la velocità con cui viene percorsa la circonferenza è cioè lo spazio percorso, due pi greco R che è la lunghezza della circonferenza diviso il tempo impiegato per percorrere sulla circonferenza dato che il raggio è costante posso anche usare un angolo per indicare la posizione quindi posso anche andare a investigare quanto rapidamente cambia l'angolo posizione e introdurre il concetto di velocità angolare, omega che vale la rapidità con cui cambia l'angolo nel tempo l'angolo giro, avete fatto un po' di goniometrie perfetto l'angolo giro e l'angolo in radianti vale due pi greco diviso il tempo che è il periodo se osservate le due relazioni vedete facilmente conto che la velocità tangenziale lineare vale omega volt di raggio siccome questo muoto non è rettilineo è un muoto accelerato e l'accelerazione si chiama accelerazione centrista perché è diretta verso il centro uguale b alla seconda diviso R o se preferite omega alla seconda per R ok? questo è il super rapidamente quanto di essenziale c'è per il in modo di un punto materiale per cui gli oggetti su cui non ci interessa la forma o l'estensione se invece è importante sapere un corpo in cui lavora è un corpo esteso posso cancellare? allora facciamo un esempio ecco se ho il libro un po' di scultatolo e a parità di forza applicata l'effetto che la forza ottene sul libro è diverso a forza di dove l'applico la grandezza che ti incontra non solo di che forza applicata ma anche di dove l'applico è il momento della forza se ho un oggetto esteso ad esempio vincolato a ruotare attorno a un punto fisso e applico la forza F in una particolare posizione F per il momento della forza si intende il prodotto vettoriale tra il vettore posizione del punto di applicazione e il vettore forza F questo è un tipo di prodotto speciale perché diversamente dall'algebra con i numeri l'algebra con i vettori ha due prodotti diversi posso avere il prodotto scalare che mi dà come circolato uno scalare o un prodotto vettoriale che mi dà come circolato un vettore questo vettore è perpendicolare a entrambi i fattori R e F ok? e si ottene utilizzando la regola della mano destra si mette nella dita lungo il primo dei vettori e lo si nuota verso il secondo e si ottiene la direzione e il verso del vettore protetto quindi M è perpendicolare al piano della lavagna e in questo caso è uscente attenzione a una cosa particolare del prodotto vettoriale è anticommutativo cioè R per F e F per R sono opposti faccio F per R o vettore entrante per una domanda è una grandezza fisica utile per tenere conto non solo della forza ma anche di dove la applichi perché il momento se io applico mi immagino che così sia la porta sui cartini se vuoi che la ruota che la porta ruoti in questo senso devo applicare un momento che la faccia ruotare in merce opportune quindi applico una forza in questa direzione se la forza è applicata nel verso opposto vuota nel verso opposto di fatto il come la forza è legata all'accelerazione anche il momento se è un corpo rigido è legato all'accelerazione angolare dell'oggetto abbiamo prima visto la velocità angolare scriviamo l'accelerazione e il momento sarà uguale al momento di inerzia per l'accelerazione angolare ok? o meglio ancora la variazione del momento angolare nel tempo attenzione attenzione l è un momento angolare è l'analogo del momento della forza ma con la quantità di moto n per vettore p dove p n volte p l'accelerazione angolare l'accelerazione angolare l'accelerazione angolare prego l momento angolare l'accelerazione angolare l'esercizio l'esercizio poi la volta prossima vedremo in particolare le lecce di conservazione quelle sono fondamentali io vi proporrei per esempio il problema 4 a pagina 122 nel volume 1 che dice la seguente cosa all'aeroporto stai tirando una valigia di 18 kg lungo un pavimento orizzontale quindi con una cinghia quindi qui c'è la valigia supponiamo a puntare qui c'è la cinghia dimmi la valigia ha una massa m di 18 kg la cinghia la cinghia fa un angolo o l'orizzonte che vale 45 gradi se la valigia si muove con velocità costante e il coefficiente di attrito tra la valigia e il pavimento mi è 0,38 determina la tensione della cinghia e B c'era un'altra domanda la forza normale la 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 tutto è chiaro qui quando si risolve un problema la prima cosa fondamentale è leggerlo molto attentamente estrarre le informazioni di cui disponiamo ciò e quello che so e esplicitare quello che non so quali sono lo incognito o ciò che devo trovare e poi finirciare fare il disegno il disegno visualizzare il problema abbiamo, aiuta moltissimo a capirlo nel piano. E poi c'è questa cosa, perché si procura di dire che la velocità è costante? Perché la velocità è costante. E ti parlo poco. Questo cosa significa? La velocità è costante. No, è nulla. Ah sì, la forza è costante. Se la velocità è costante e la situazione è nulla, la forza è nulla, cioè sulla valigia la risultante è zero. La sommazione della forza è zero. La sommazione della forza è zero. Allora devo vedere quante e quali forze ci sono. È più chiaro? Quindi. C'è sicuramente la tensione della valigia, la tensione della cunea. C'è la forza peso. E c'è la reazione vincolare, la reazione normale. C'è l'attrito. E l'attrito è giusto. E fa. Stavo dimenticando l'attrito. Quindi qui, idealmente, consideriamo come un punto materiale la valigia e a questo applichiamo tutte le forze. Quindi ho peso, tensione, reazione normale e forza d'attrito. Questa è una T, eh, anche se scritte male. Il peso, com'è fatto? Che volto vedere qui? Che volto vedere qui? Che volto vedere qui? Cioè... Massa. Massa che ha senza gravità. Massa che ha senza gravità. Il volto del peso è M volte G. G con G, 9,81 metri al secondo quadrato. La forza d'attrito? La forza d'attrito? Per la forza premente. Che in questo caso è la forza, la relazione vincola normale del piano. Ok? La T, eh, non so quant'è. Devo calcolarla. Si fa una posizione su... Un modo per provare il sistema è... Scomporre. Scomporre, esattamente. Ok? C'è un altro modo. La rete probabilmente perché vi ho fatto trigonometria. Se no trigonometrica. Per adesso basta cuirlo della scomposizione. Per scomporre è necessario associare il sistema di assi cartesiani. Al sistema. Posso metterlo dove voglio. C'è una legge chiusa che mi dice che si deve essere lì o là. Certamente sceglie un sistema più comodo. Siccome ho già due forze perpendicolari, sceglierò per esempio un'asse verticale e il massimo è amizontale. Chiamerò x e y, per esempio. Il fatto che la velocità è costante mi informa e mi dice che... E qualcuno mi ha detto 5 minuti prima che c'è la campana. Mi dice che la somma vettoriale di tutte le forze, cioè peso più tensione più porta normale più porta d'attrito vale zero. Questa è un'equazione vettoriale. Così com'è è difficilmente risolubile. Per risolverla devo scomporla. Cioè la riscrivo nelle due componenti orizzontale ed verticale. qui, per esempio, un vettore orientato a sinistra avrà un segno negativo perché il verso positivo l'ho fissato a destra. Potevo anche fare il verso positivo a sinistra. Non cambiava niente. Non libro di farlo. Però se ho fatto una scelta, deve essere coerente con quella scelta. Ok? Quindi analizziamo prima le forze lungo l'asse delle x. qui ho la forza di attrito che va verso sinistra. Quindi ho meno FA. Poi n non ha componenti orizzontali. P non ha componenti orizzontali. La tensione sì. E la componente orizzontale è più T per il coseno di alfa. Il totale deve fare zero. e la risultante è nulla, quindi è nulla anche la componente. Verticalmente ho tre termini. Ho il peso che va verso il basso, quindi ho meno P o n, quindi più n. E poi ho più la componente verticale della tensione che è P per il seno di alfa. Anche questo deve fare zero. Qui n o meglio FA è legata ad n. Queste due sono legate da questa equazione. Ok? Ci sono domande? Perfetto. Allora, se osservate il sistema posso scrivere qua sopra? Cancello. Sì. Sì. Abbiamo che T coseno di alfa vale quanto la forza da tritore che è niveau e pain. fine. Sotto che T sen alfa vale il meno n. Ok? Di conseguenza qui posso inserire n al posto di coseno di alfa perché da qui posso ricavarmi n. n vale la tensione per il coseno di alfa diviso mi. devo ripetere? Devo ripetere. Lo inserisco nella seconda equazione e ottengo quindi rispetto a n vale T coseno di alfa diviso mi. Quindi ho T sen alfa è uguale a P meno P coseno di alfa diviso mi. porto questo termine a sinistra e ho risolto il problema perché ho a sinistra T per parentesi sen alfa più coseno alfa su mi uguale al peso. Divido il peso per il coefficiente e ho trovato la tensione. la tensione qua sotto l'avete già accoppiato questo? Sì. Allora dico il P flex in alfa più è un alfa per la trinta. Divido per la parentesi e ho dato che la tensione va al ripeto diviso in alfa più il peso lo conosco perché è 18 kg per 9,81 m2 il peso lo conosco è 45 il peso lo conosco è 0,38 mi pare se metto i numeri nel loro posto e svolgo il calcolo e vi prego di farlo perché è importante imparare a fare i calcoli ottengo che la tensione è circa 69 Nm una volta che ho la tensione posso trovare anche la reazione normale basta che sostituisco T qua dentro il peso è N circa 130 Nm la tensione è yeti la tensione è circa 80 Nm e la tensione è circa 80 Nm una volta che vedete la tensione è circa 80 Nm una volta che si trova più la tensione è circa 80 Nm e vedete se riesco a fare velocissimamente anche il 5 posso cancellare? è ragionevole la testa significativa potrebbe saltare a seconda di come avete approssimato il 16 o 20 noi faremo un po' di pratica anche nell'uso della calcolatrice perchè uno degli errori più frequenti nei conti di fisica è un errore di approssimazione cioè fare i calcolatori che si è semplicemente abituato in modo diverso a casa per la volta prossima fate altri esercizi di questa parte in particolare il 5 ok? se ci sono difficoltà mi lo dite qualunque come è? 5 e 8 e 2 e ancora meglio ultima domanda? grazie 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 grazie